amici di mondo blackberry.com sono sempre matteo vismara oggi vi volevo parlare di tecnologia nfc quindi una tecnologia per trasferire file da dispositivo a dispositivo a breve distanza quindi le impostazioni nfc le troviamo nel menu generale di tutte le impostazioni del telefono andiamo su rete e connessione abbiamo servizi di connettività abbiamo connettività nfc quindi possiamo disabilitarla e abilitarla a nostro piacimento quindi andiamo a fare una prova su un trasferimento di un file apriamo il lettore musicale per farvi un esempio premiamo su una canzone andiamo a premere su il menu di condivisione e andiamo a selezionare nfc quindi nfc attivato andiamo ad avvicinare i due dispositivi ecco qua il trasferimento come vedete sta iniziando i telefoni a questo punto possono essere lasciati anche non proprio vicinissimi uno all'altro perché comunque quando il trasferimento è iniziato lui finirà quindi possiamo tenerli anche un po' lontani come vedete trasferimento è una tecnologia molto comoda trasferimento molto veloce dei file possiamo utilizzare anche il wifi direct su dispositivi che lo supportano il file è stato trasferito andiamo a vedere ed ecco qua perfetto file trasferito con successo come avete visto è un'operazione veramente semplice per oggi è tutto un abbraccio alla prossima grazie a tutti grazie a tutti